Dunque, dove eravamo rimasti? Sì, nel secondo canto dell'Inferno avevamo lasciato Dante alle prese con i suoi dubbi riguardo questo viaggio, ma Virgilio è riuscito a convincerlo e i due iniziano questo percorso di redenzione. Analizziamo insieme questo canto, ma prima, se avete idea o suggerimenti, scriveteli qui sotto. Nel terzo canto Dante e Virgilio arrivano finalmente nell'oltretomba. Non ci troviamo ancora nell'Inferno vero e proprio, bensì nell'Antinferno, il vestibolo che precia dell'Inferno. Ad accoglierli vi ha una porta con una scritta inquietante, una delle più famose espressioni di tutta la Divina Commedia. Lasciate ogni speranza o voi che entrate. Ma come è fatto quest'Antinferno? È un luogo scuro in cui riecheggiano i pianti e i lamenti degli ignavi, coloro che in vita non hanno saputo prendere una posizione netta. In realtà queste anime non sono propriamente dannate, però sono comunque costrette a scontare una pena piuttosto severa. Nel vestibolo, oltre alle anime degli ignavi, Dante e Virgilio incontrano anche le anime dannate, che stanno aspettando, sulle rive del fiume Acheronte, di essere traghettati dall'altra parte della sponda, nell'Inferno vero e proprio da parte di Caronte. Le figure principali di questo canto sono quindi le seguenti. Abbiamo la porta dell'Inferno. È una porta quasi personificata, è lei stessa a parlare infatti tramite la sua scritta. Creata dalla Trinità, essa sancisce l'immutabilità della condanna divina. Abbiamo poi gli ignavi, coloro che in vita non hanno saputo prendere una posizione netta. Dante nutre un profondo disprezzo per queste anime, perché secondo lui sono venute meno alla prerogativa morale dell'uomo, che riguarda tanto la sfera teologica, ovvero la scelta tra il bene e il male, quanto la sfera politico-sociale, ovvero la scelta di una fazione piuttosto che di un'altra. Infine abbiamo Caronte, il traghettatore delle anime. In questo caso, egli ha una duplice funzione, sia didattica, in quanto spiega alle anime cosa succederà a loro nell'inferno, ma anche profetica, perché sarà lui a dire a Dante che la sua anima è salva. Ma perché Dante c'era così tanto con gli ignavi? Perché secondo lui, la rovina politica di Firenze era stata causata anche dall'indifferenza dei cittadini, che avevano lasciato che la città cadesse nelle mani dei gualfineri senza ribellarsi. Come abbiamo già detto prima, gli ignavi non sono dei veri e propri dannati. Però Dante infligge loro una pena piuttosto severa. Essi sono costretti a correre nudi, incessantemente, dietro un'insegna priva di significato, tormentati dalle punture di vespe e mosconi. Nel terzo canto dell'inferno abbiamo anche un mistero da decifrare. Nei versi 59 e 60 Dante scorge colui che fece per Viltate il gran rifiuto. Ma a chi si sta riferendo? Diverse sono le ipotesi, ma le più accreditate sono le seguenti. Per alcuni si tratterebbe di Ponzio Pilato, che, lavandose nelle mani, si rifiutò di giudicare colpevole Gesù Cristo e lasciò la sua condanna al popolo. Per altri, invece, si tratterebbe del Papa Celestino V, che a malincuore decise di diventare Papa, per poi abdicare poco dopo, spianando così la strada Bonifacio VIII, responsabile, secondo Dante, della corruzione della Chiesa, ma anche del suo esilio. Il canto si conclude con la consapevolezza che l'anima di Dante è salva. Ma come si capisce? Anche qui è Virgilio ad illuminarci. Caronte è arrabbiato con Dante perché non può traghettarlo dall'altra parte della sponda, poiché nessun'anima in grazia di Dio può essere trasportata. Ecco quindi che la rabbia del nocchiero sta a significare che l'anima di Dante è salva. Successivamente, all'improvviso, abbiamo un terremoto del suolo infernale accompagnato da un lampo rossastro. Dante sviene dalla paura. Per approfondire, vi lasciamo il link qui sotto. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace.